Claudia Fantucchio ha vinto il certamen, Etneum adesso si ispira alle nazionali. Come è stata questa esperienza catanese? Sicuramente è stata un'esperienza particolare. Arrivati là ricordo che la prima impressione che ho avuto della versione è stata tremenda. Ero sicura che non sarei riuscita a combinare nulla. Perché mi sembrava la versione peggiore che avessi mai visto in vita mia. E in effetti lo era, era difficile. Però evidentemente è andata bene. Devo dire che sono rimasta sorpresa. Però al tempo stesso sono soddisfatta anche del fatto che il commento penso abbia avuto un buon peso. Infatti in questo certamen di argomento scientifico era necessario scrivere un commento sulla versione stessa. Sia anche a livello filosofico, implicazioni letterali, culturali, anche a livello stilistico. E quindi penso che anche questo abbia avuto un peso. Sono stata molto contenta, anche molto stupita di scoprire di aver vinto. E soprattutto perché appunto chiunque vinca uno dei 60 certamen considerati dal MIUR ha la possibilità di accedere alle Olimpiadi della Classicità che si terranno a Torino il prossimo mese. In queste bisognerà scegliere tre categorie che è la traduzione latina, traduzione greca e il tema sulla civiltà classica che è quello che personalmente preferisco. Un messaggio, un incoraggiamento dei compagni che parteciperanno il prossimo anno a questa stessa tua esperienza? Evidentemente nulla, è troppo difficile. Professore Riccardo, la vecchia ogni anno il liceo classico Ugo Fosco lo partecipa a tutti i certamen, possiamo dire, che ci sono in Italia o almeno i più importanti. Come si svolge il certamen, diciamolo magari a chi il prossimo anno verrà di iscriversi in questa scuola, in questo liceo prestigioso? Certamente. Il liceo classico di Canicattì, classico scientifico e linguistico, cerca sempre di valorizzare le proprie eccellenze. E quindi, quando possibile, partecipiamo a tutte le competizioni a livello regionale e nazionale di cui abbiamo la possibilità. Si tratta di competizioni di gare vere e proprie in cui i ragazzi sono costretti ad affrontarsi con prove di estrema difficoltà, in questo caso una traduzione di un brano molto impegnativo, con l'aggiunta di un commento, sia nello stile sia nel contenuto, appunto con una selezione molto rigida. Per noi è una grandissima soddisfazione. Abbiamo ottenuto un primo posto e anche in altre competizioni riusciamo a difendersi. Malgrado quello che si possa pensare, insomma, i ragazzi che vescono dal nostro liceo non sono assolutamente inferiori a nessuno. Una certificazione della Fondazione Agnelli quest'anno ha indicato che il liceo classico di Canicattì era il migliore nella provincia di Agrigento per risultati. Non nei risultati della scuola, che magari sarebbe anche merito nostro, ma i risultati ottenuti dai nostri ragazzi all'università. Sono risultati appunto i migliori in provincia di Agrigento e tra i migliori in Sicilia. Non abbiamo niente da invidiare a nessun'altra scuola del territorio.